Ciao bambini, come state? Sono la maestra Cristina dei Rossi. Guardate un po', ho qui per voi attraverso il mio computer una storiellina di Spot, il nostro amico cagnolino. Get well soon Spot, riprenditi presto Spot, è il titolo di questa storiella che vorrei leggere adesso insieme a voi. Siete pronti? Are you ready? Let's start. Attenzione. Today, oggi, Spot isn't very well. Spot oggi non si sente molto bene e lo dice alla sua mamma. Bisognerà che lui rimanga a casa a riposarsi. It's no fun being sick. Non è divertente star male, says Spot, ma la sua mamma lo rincuora. e prepara la sua copertina preferita per dirgli di riposarsi e stare al calduccio un po'. Look, look, guardate. You'll feel better soon. Here's your favorite blanket, says mommy. Starai presto bene, Spot, ti sentirai meglio. Ecco qui la tua copertina preferita. Avete visto che bella la sua copertina. There are stars. It's light blue, red and yellow. Ok, children? Ma Spot dice I wish I could go out and play with my friends. Io vorrei uscire a giocare con i miei amici, dice Spot. Ma attenzione che adesso succede una cosa molto simpatica. Vediamo insieme. Gli amici di Spot, eccoli qui, sono Helen, Steve and Tom. Ve li ricordate? E Hippo e Monkey and Crocodile. Ok? Hanno deciso di andarlo ad aiutare un po' a riprendersi in fretta. My mom gives me juice when I'm sick, says Helen. La mia mamma mi dà il succo quando non sto bene, dice Helen. I like juice, says Spot. Mi piace il succo, dice Spot. Guardate Steve aveva anche un bigliettino con scritto get well soon, Spot. Riprenditi presto, Spot. Guardate, l'hanno messo qui. Vediamo un po'. My dad reads me stories when I'm sick. Il mio papà mi legge delle storie quando non sto bene. I like stories, says Spot. Mi piacciono le storie, dice Spot. Che meraviglia! And Steve, eccolo qui, ha un'idea meravigliosa e dice I always have ice cream when I'm sick. Io mangio sempre gelato quando non sto bene. Avete visto bimbi? One, two, three, four. Four ice creams. Ci sono quattro gelati, uno per ciascuno. Questi amici si stanno facendo un po' di compagnia e insieme cercano di aiutare Spot a riprendersi velocemente. Guardate, sta già sorridendo. I love ice cream. Io amo il gelato, dice Spot. Vediamo un pochino adesso che cosa succede. Oh, la sua mamma, ecco qui, chiede a Spot. How are you, Spot? Come stai, Spot? E Spot adesso può rispondere. I'm feeling much better. Sto molto meglio. I'm fine, thank you. Sto bene, grazie. Adesso si sta riprendendo un altro pochino. Intanto ringrazia tutti i suoi amici dicendo thank you, thank you. Vi ricordate, bimbi, la parolina grazie in English is thank you. Ok? E la sua mamma lo rincuora e dice You'll be out with your friends in no time, Spot. Non ti preoccupare, Spot, che sarai presto fuori a giocare con i tuoi amici. Fine della storia, bimbi. Spero che vi sia piaciuta e vi mando un grande bacio. Bye bye! A presto con altre avventure. Ciao amici!